Ieri pomeriggio a Ischi è andata di scena l'ennesima pagliacciata politica dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Ferrandino, la quale, dopo aver letteralmente sperperato tra finanziamenti persi, penalità pagate, soldi spesi, cifre riguardevoli della collettività per snaturare piazza degli eroi e per rendere meno funzionale dal punto di vista aviario l'unico snodo stradale del centro del paese spostando e rimbicciolendo la totatoria, la cui nuova posizione crea lunga coda e di traffico verso via Michele Mazzella, ieri pomeriggio assieme a pochi intimi dell'amministrazione chiamati a raccolta per evitare l'ennesima figuraccia hanno avuto pure il coraggio di fare l'inaugurazione. Lo sperpero di danaro pubblico di piazza degli eroi è una vergogna contro cui il PCML fondato dal compiando Domenico Savio si è sempre battuto e continuerà a battersi perché i soldoni sperperati su questo ingrocio andavano utilizzati e investiti per altre priorità che ci sono nel paese, a partire dall'abbattimento delle barriere architettonico lungo strada e marciapiedi e per la messa in sicurezza della rete viaria dissestata ovunque, ma oltre a restringere pericolosamente lo snodo viario e ad allargare a dismisura i marciapiedi che incredibile a dirsi erano gli unici non dissestati in quanto da poco rifatti, cosa è stato realizzato di nuovo a piazza degli eroi. Praticamente nulla, tranne che un mini mini parco giochi posizionate, udite udite, tra le auto che transitano per le quattro vie e il parcheggio dei taxi. Sì, avete capito bene, sbagliando clamorosamente persino la location, hanno realizzato un minuscolo parco giochi nel pieno dello smog cittadino. Quando a 30 metri di distanza da qui c'è la pineta di via Edgardo Cortese, il cui polmone di verde abbandonato al degrado più assoluto da decenni andava recuperato per poter realizzare un gran bel parco giochi per i nostri bambini che invece, grazie all'incapacità e alla presunzione di chi ci disamministra, saranno costretti a giocare tra auto e taxi. Assurdo, ma non è tutto. Durante l'esecuzione dei lavori, all'ingresso di via Edgardo Cortese hanno dimenticato di creare il passaggio pedonale così residenti e turisti sono costretti ad attraversare, rischiando di essere investiti. Da non credere. Infine, la rotatoria è stata trasformata in una fioriera raffigurante l'isola d'Ischia, col suo mare e i sei comuni. E anche in questo caso l'amiopia degli amministratori è riuscita a far criticare un'opera che avrebbe tutt'altro valore se fosse posta nei pressi ad esempio del lungomare Cristoforo Colombo oppure a ridosso di una zona costiera del nostro comune. Anche perché, per essere apprezzata, c'è bisogno che venga osservata da vicino e questo è impossibile farlo su di un incrocio pericolosissimo, a meno che qualcuno non voglia rischiare di finire sotto ad una macchina. Ma c'è una cosa ancora più grave degli inutili e dannosi lavori di piazza degli eroi e dell'atteggiamento arrogante che nel corso dell'inaugurazione il sindaco Ferrandino ha tenuto nei confronti dei suoi avversari politici. Infatti, nel sostenere che la spesa effettiva dei lavori si aggirerebbe intorno agli 800 mila euro e osannando persino la loro azione amministrativa, ha definito guastatori e ciucciarielli coloro che sostengono altre tesi. Sentire per credere. Perché, lo dicevo prima, confondere tutto per confondere tutti, che questo è il motto di questi guastatori o ciucciarielli, a seconda se è in buona fede o in mala fede, colui che è eventualmente esterna queste cose, noi non le dobbiamo consentire perché ne va della dignità di questa classe dirigente. Il solito arrogante politico, il sindaco Dischia, che al contrario da primo cittadino dovrebbe essere il garante del rispetto di tutti, anche di coloro che eventualmente dovessero sbagliarsi e, soprattutto, dimostrare le sue tesi carte alla mano e non tenendosi i documenti chiusi nei cassetti del municipio. Se non fosse per la nostra correttezza e lealtà politica e per il nostro stile che ci contraddistinguono e ci impongono sempre serietà ed educazione, lo risponderemmo per le rime e diremmo, ma guarda da quale pulpito di ciucci politici viene la predica, da personaggi che da quarant'anni a questa parte, ovunque mettono mano ai lavori pubblici, prova con qualche disastro, come avvenuto in piazzetta San Cirolamo, trasformata in una piedosa piazza d'armi, o ai schiaponte dove hanno consentito persino la distruzione dei basoli secolari che ricoprivano i muretti del pontile aragonese, tanto per fare solo due esempi. Grazie a tutti.